Buongiorno a tutti, parliamo di un autore molto importante della letteratura italiana, Giuseppe Ungaretti, nato nel 1888 e morto nel 1970. Ecco, per chi sta scrivendo una tesina, è importantissimo perché ha attraversato i principali momenti della storia d'Italia. Diciamo dall'inizio del Regno d'Italia alla Prima Guerra Mondiale, alla Seconda e anche al periodo della Guerra Fredda, quindi è un autore che fa da lascia passare per tutto questo vasto periodo e interessante periodo. Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio del 1888 da genitori italiani originari della provincia di Lucca. La sua infanzia è segnata dalla morte del padre. Il padre, operaio allo scavo del canale di Suez, morì due anni dopo la nascita del poeta, in un incidente sul lavoro nel 1890. Giuseppe nel 1914 si arruola volontario sul fronte austriaco. Soldati è l'espressione più profonda di un nuovo modo di intendere la poesia. Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie, una poesia minimalista che interrompe una tradizione metrica e di ritmo iniziata con Dante, con l'endecasillabo, la terzina ad endecasillabo e rima incatenata. Quindi tutta questa tradizione italiana che parte da Dante, attraverso appunto Petrarca, attraverso tutta la lirica, viene interrotta da Ungaretti per una poesia più espressionista, più indicativa, con una ricerca lessicale estrema, un'estrema semplicità ma all'interno un'estrema ricchezza di significati, un'estrema polifonia. Pur parlando di cose semplicissime, apre uno squarcio sulla vita, sull'esistenzialità, sul significato di tutte le cose. Allegria di naufragi è la sua raccolta. Perché chiamare l'allegria una raccolta di poesie in cui prevalgono tali temi? Ungaretti spiega come il sentimento d'allegria, in questo caso, scaturisca nell'attimo in cui l'uomo realizza di essere scampato alla morte. L'esperienza diretta che il poeta fa della guerra durante il primo conflitto mondiale, la quotidiana tensione verso la vita nell'atto pratico della sopravvivenza, porta al culmine tale sentimento. Una delle poesie più belle appunto è Sono una creatura. Che adesso sentiremo appunto letta da un grandissimo interprete. Come questa pietra del San Michele. Così fredda. Così dura, così. Prosciugata. Così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vive. La morte si sconta vivendo. Sentite quindi l'importanza di questa lirica che ti proiettina di dimensione esistenziale completamente diversa, completamente completamente di una strugenza di una capacità di penetrare nel tuo animo mai fino ad ora sperimentata. Eppure tutto questo in questi concisi versi così semplici così minimalisti è veramente un capolavoro. E veniamo al porto sepolto verso i 16 anni ho conosciuto due giovani ingegneri francesi, fratelli Tuil, Jeanne e Henri Tuil. Mi parlavano di un porto sommerso che doveva precedere l'epoca tolemaica, provando che Alessandria era già un porto già prima di Alessandro, che già prima di Alessandro, ovviamente Alessandro Magno, era una città. Il titolo del mio primo libro deriva da quel porto, il porto sepolto. È una bellissima appunto poesia e ci fa pensare ai cosiddetti canti di Orfeo, il poeta che appunto scende nell'abisso della morte, quindi valica i confini dell'Ade, per riportare alla luce la sua Euridice. Ma gli viene appunto predetto che esiste una legge per la quale lui durante il tragitto non deve voltarsi e guardare l'amata. Lui si volta e l'amata scompara. Quindi il poeta è come appunto Orfeo, scende nell'abisso in una profondità e riporta alla luce dei tesori meravigliosi, come possono essere i tesori del porto di Alessandria. Ma nel tempo stesso non riesce a portare tutto alla superficie. Questi beni, queste cose, questa ricchezza si sbriciola, si perde. Quindi il poeta può darti uno squarcio, un'illuminazione, ma mai le cose nella sua completezza. E' bellissima appunto questa poesia, è molto veramente molto intensa, che ora andremo ad ascoltare. E arriva il poeta, e poi torna alla luce con i suoi canti, e mi disperde. E questa poesia, mi resta quel nulla di inesauribile segreto. Per Ungaretti, questo luogo misterioso, è assunto a simbolo di ciò che resta segreto, indecifrabile nell'animo umano. Il poeta, attraverso un processo di scavo interiore, vi si avvicina e ne trae ispirazione per i suoi canti, ma non riuscirà mai a portarlo completamente in superficie. Secondo questa concezione, la poesia nasce dal riconoscimento di un mistero, o rappresenta lo sbocco di un sofferto itinerario di ricerca della verità. Ma di questa verità, racchiusa all'interno dell'uomo, si riesce a cogliere un eco appena, quel nulla di inesauribile segreto. Sapresti ripetere queste cose così interessanti?